Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Come tutti i fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto modo di apprendere, il rapper sta facendo i conti con una malattia, della quale ha deciso di non parlarne ancora sui social Malgrado questo, attraverso i profili Instagram dei diretti interessati, stanno trapelando delle informazioni Proprio in queste ore, infatti, è stato lo stesso Fedez a dare qualche aggiornamento in più a tutti i suoi follower Fedez annuncia di avere una malattia.Un po' di giorni fa Fedez ha dato un triste annuncio a tutta la sua community di Instagram raccontando di aver appreso di avere una malattia alquanto importante Il cantante non ha potuto fare a meno di scoppiare lacrime in quanto la situazione sembra decisamente seria Proprio in virtù della delicatezza della faccenda, il protagonista ha detto di non sentirsi ancora pronto a parlare di tutto quello che sta affrontando sui social, tuttavia, presto si aprirà e svelerà ogni cosa Martedì 22 marzo Giornata importante per la malattia di Fedez Nel frattempo, però, Fedez si sta nutriendo dell'affetto e del supporto dei suoi cari ed è anche profondamente felice dei messaggi di conforto che sta ricevendo dai suoi fan Proprio per questo, attraverso un commento su Instagram, ha deciso di fare qualche aggiornamento Fedez, infatti, ha svelato che oggi, martedì 22 marzo, è una giornata molto importante per la sua malattia Molto probabilmente, dunque, il protagonista dovrà fare delle visite che potrebbero essere rivelatrici per il suo problema di salute Le parole del cantante e di sua moglie Chiara Ferragni.Fedez, poi, nel post in questione ci ha tenuto a specificare di essere molto riconoscente alla sua famiglia per tutto quello che ogni singolo membro sta facendo per lui da quando hanno appreso della sua malattia A tal proposito, ha detto, grazie a mia moglie, che è sempre al mio fianco, e alla mia famiglia In seguito, ha voluto spendere qualche parola anche per i suoi splendidi figli Nello specifico, ha detto, grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto Anche Chiara Ferragni ha condiviso il post di suo marito ed ha commentato mettendo semplicemente le mani giunte in preghiera Non ci resta che attendere per avere aggiornamenti.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video